Il sindaco facenti funzioni di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, ha incontrato i rappresentanti dei gruppi consigliari e delle forze politiche di maggioranza. Gli incontri, è scritto in una nota, sono serviti a fare il punto sul percorso intrapreso dalla compagine del centro-sinistra per dare nuovo slancio all'azione amministrativa del Comune dopo la sospensione del sindaco Giuseppe Falcomatà. Brunetti, prosegue la nota, ha recepito le istanze delle forze politiche a sostegno della maggioranza comunale, sostanziando il suo impegno nella piena disponibilità ad avviare un confronto approfondito sui temi da rilanciare nell'azione di governo della città. Un percorso che sarà accompagnato da un azzeramento dell'esecutivo e cittadino, che andrà ricostruito in virtù della nuova fase politica generata negli ultimi accadimenti. La città vive un momento particolarmente delicato, ha affermato Brunetti, a margine del giro di consultazioni. Una fase che può rappresentare alcune insidie, ma soprattutto una serie di opportunità in virtù della nuova programmazione legata al PNRR per il rilancio socio-economico del territorio dopo la crisi pandemica. Non possiamo e non dobbiamo in alcun modo perdere di vista l'obiettivo principe di questo nostro impegno, l'attività di servizio nei confronti dei cittadini per il miglioramento dei servizi e per il completamento della programmazione avviata in questi anni. In questo senso, ha infine spiegato il sindaco facenti funzioni, sono convinto che il confronto aperto con le forze politiche di maggioranza che ho incontrato in queste ore possa rappresentare un'ulteriore spinta verso l'obiettivo prioritario di fornire risposta ai cittadini ed in tempi rapidi tornare ad offrire alla città un governo stabile ed operoso.